Non ti preoccupa, eh? In effetti vestito così non è credibile. Non è credibile. Non sono io che mi cedo. Io chiedo scusa di quello che ho fatto. Non riesco. Avrei voluto un padre. E tu non ci sei mai stato. Non sai che sono sposato? Che ho due bambini e femminili. E sei diventato un uomo. Poi avevi... Ho lavorato. E dopo sono tornato. Ti ho cercato. E non ti ho trovato. Maria De Filippo. C'è posta per te. Sabato alle 21. Su Canale 5. Per accendere il mutuo stai spegnendo tutto il resto? Meglio mutuo 40 Vulic. Comoderate fino a 40 anni. 800 106 106. Stai spegnendo tutto. New Clio. Full of life. Denti e gengive subiscono continui attacchi. Lo zucchero è presente in molti più cibi di quelli che pensi. A differenza dei normali dentifrici, menta d'N.P. contiene zinco e triclosan, per una protezione superiore. Menta d'N.P. tiene in forma il tuo sorriso. I flauti hanno un segreto. Una farcitura unica fatta solo con gli ingredienti migliori in una pasta morbida e leggera, a cui proprio nessuno può resistere. Neanche Luca. Murino Bianco. Scegli un mondo genuino. Ecco il numero. 892. 892. Risponde il numero Italia, la nuova società che ti dà i numeri telefonici. Chiama ora. Allora, per prima cosa, spinaci. Poi il pomodoro. A bumbarò. Un giro d'olio. Ed ecco che il calzone è una vera schifezza. Quindi spianiamo bene, inforniamo con il detersivo e aggiungiamo il mio ingrediente segreto. Ace Oxymagic. Smacchiatore, molti uso. Basta una dose della sua formula all'ossigeno attivo e da come dissolve le macchie si vede che è ace. I colori restano al dente. Per un calzone pulito, sarà grande. Nuovo Ace Oxymagic. C'è più gusto a togliere le macchie. Da Ansatlast il nuovo cerotto spray. Flessibile, impermeabile e trasparente. Ansatlast cerotto spray. Protegge le ferite e agisce come una seconda pelle. Da Ansatlast. C.K. Watches. Da Calvin Klein. C'è sempre qualcuno che ti dice che le merendine per la colazione sono tutte uguali. Io o meno. Certo. Basta rinunciare non a uno, non a due, ma a ben cinque cereali. A un pane lievitato a lungo, a una colazione completa. Forse potrei. Ma non avrei Kinder Colazione Più. L'energia dei suoi cinque cereali e quel gusto inconfondibile di cacao per partire bene al mattino. No, io scelgo Kinder Colazione Più. No, io scelgo Kinder Colazione Più. Con la qualità non si scherza. Dieci orizzontale. Lo chiede chi vuole dei soldi. Fin Domestic. Fin Domestic Banca. Vuol dire prestiti personali. Oggi prendo il turbo. Oggi ha preso il turbo. Nuova classe A200 turbo. 193 cavalli. Fondente nero è un grande cioccolato. Ci terrà buona compagnia. Fondente nero. Il fondente con oltre il 70% di pregiati cacao. E già? No. Novi. Novi. Cioccolato per passione dal 1903. Blocca la strada alle rughe. Nuovo antirughe Q10+. Ferma le rughe di oggi e quelle di domani. Nuovo antirughe Q10+. Daniele Visage. Allora, chiediamo silenzio in sala. Tutti seduti, grazie. Questo è il 100 bagno per voi. Segniamolo. Ok, pronti a partire. 3, 2, 1, 3, 6. Ciao a tutti. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Benvenuti a Zeli Gob. Un nuovissimo stagione. Naturalmente altissimi comici nuovi, debuttanti che quest'anno in qualche modo faremo crescere nel corso di queste 13 puntate. E questo è solo un assaggio di quella che sta da Zeli. Naturalmente siamo con l'Au Cremona. Grazie. Su, su, su. Visto? Questa sera su canale 5 Sei go Oliveto e Rocchetta sono acque della salute Vabbè scusi sono 10 minuti buoni